ah bene mettiamo tranquillamente su coso allora vediamo un po i term dai fammi vedere un po allora da questa la pagina dei settimanale giusto ok funzionamento automatico manuale estate inverno ok ok questa è la parte di con termostato normale il set point do cambi ruotando il ruotando la cosa ok cambia anche il colore ok questo è settimanale ecco questa qua è quella mi piace meteogramma su due giorni il sole il sole la luna sono sono presi dal meteo in modo che tu sai quando c'è il sole la luna vabbè dai e vabbè queste sono carine sensore di temperatura non c'è nessuno con i dati aggregabili per giorno per settimana come che era per giorno se è ogni sei ore la media su ok ok c'è un po l'idea settaggi parte questa cosa la videocamera se c'è la videocamera questo cos'era i consumi del riscaldamento ai consumi già vari locali quindi riscaldamento ma magari questo non so è linea questo center facciato wireless ambas piuttosto che termo autonomo eccetera eccetera e qui geolocalizzazione e vabbè la geolocalizzazione con google d'accordo perfetto per il livello per il livello